Una volta, dai, qui c'è tante persone ma queste non sono quelle che mangi, un piccolare che non la troviamo più, magari se potete mettere dentro qualche incominante, ma lasciarle dopo dentro, eh, a giogare bene il raccoglio, vai a mano. Non so se vuoi, non so se vuoi, non so se lo sapete. Vedete che urgranza a oltre loro sistema di cercare, 내�lin', descrivistza da lì dentro, dal divino spotto più buono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con questo vi ringrazio, noi siamo qui ancora, poi se volete a fare qualche domanda, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, un buon weekend e vi arrivederci magari più avanti come anche volontari. Grazie a tutti. Grazie.